Buonasera a tutti, volevo chiamare Marco Viganò, se viene, che dovrebbe iniziare a bailar. Volevamo presentarvi la nostra esibizione di tango argentino, insegniamo presso la scuola a Musia Danza, ci saranno sia i principianti che gli intermedi e gli avanzati, quindi persone che ballano da pochi mesi e qualcuno che balla da più tempo, quindi in parte ci saranno dei pezzi improvvisati e altri coreografati. La maggior parte sono improvvisati. Volevamo dedicare questo piccolo assaggio di tango a un nostro amico che ci ha lasciato pochi giorni fa e oggi sarebbe stato il suo compleanno, Luigi Temerini. Grazie. 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 Grazie.